Il calcio è fatto di dettagli e il margine tra vittoria e sconfitta è davvero davvero sottile. Ecco, oggi a fare la differenza probabilmente saranno le piccole cose, l'atteggiamento, la capacità di sfruttare ogni singolo istante della gara. Per andare avanti serve la massima concentrazione e vediamo allora De Pai! C'è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava col fatto, eroico. Vede lo scatto e cerca la profondità e l'arbitro con l'assistenza delle guardaline dice che c'è stato offside. Prova a darla profonda, nello spazio. Prova a indicare lo scatto sul fondo. Tell avanza verso la porta. Tell fuori di poco sfortunati qui. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi Luca? Io dico Marco Fiorente, un centrocampista molto interessante a mio modo di vedere. Ha iniziato la carriera da interditore puro. I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. Questo gol Fabio è la degna conclusione di un assist geniale. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Gnabry, Musiala. Gnabry, Fiorente, tiene sul piano fisico. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. De Paul intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Corata. Qui c'è il chiaro. Delizioso! Che classe! Che rete! Tutto da rifare. Una reazione incredibile. Li ha portati subito al pareggio. È come se il colt subito li avesse svegliati, Fabio. Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con vehemenza dopo pochi minuti. Adesso la partita può diventare bellissima. Aggressività e verticalizzazione. Può sembrare semplice, ma riuscire a fare tutto con i tempi giusti è sintomo di grande condizione fisica e preparazione tattica. Si riparte. Di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Sceglie di andare. Può tentare la conclusione. E adesso possono tornare a controllare il match. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. E passano in vantaggio. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. È occasione persa questa. Ha sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per pie centrali, ma non ha avuto fortuna. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Depay. Depay! Beh, questa è proprio una ciabattata. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Qui può partire il contropiede. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Se ne va. Si è letteralmente rifiutato di farsi da parte. Deve solo tirare. Alza la palla in profondità verso un compagno. Diorente. Depay! E il portiere dice di no. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Diorente. Diorente! La toglie dalla porta! Che sfista! Passa il pallone, però male. Molina. Davis. Cerca il movimento di sua in profondità. Gnabry. E con occasione di contropiede. Prova a darla profonda nello spazio. Ottimo scatto sulla fascia. Premiato dal compagno. Decide di giocarla in profondità. E passa! Una bella giocata nello spazio. Si libera con classe. Ha spaventato la difesa, sì. Ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Che anticipo sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Nabry. Una serie di passaggi corti e precisi. Libera al momento giusto. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Si va ora sulla fascia opposta. Prova a giocarla nello spazio ma non riesce. Depay oggi. È stato un bel primo tempo. Una rimonta un po' a sorprese. A giudicare dal vuoto non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti. Termina così il primo tempo. Il primo tempo è stato un'altalena di emozioni. Interventi difensivi, parate, gol, rimonte. Questo è un grande calcio. E abbiamo ancora un tempo da seguire. Un solo gol separa le due compagini al fischio parziale del direttore di gara che ha mandato tutti negli spogliatori a rinfrescarsi le idee. La partita è ben lontana dal considerarsi chiusa e gli allenatori dovranno subvisare bene le loro parole per motivare i propri ragazzi. In un senso o nell'altro. Partiti. E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Era al posto giusto. Un bel anticipo. Blind. De Paul. Llorente. Sceglie di andare per pie verticali. Ci prova con un pallone profondo. È posizione irregolare però. Prova a superare la difesa con un filtrante. Si ferma qui la manovra. Si assicura di non far correre rischi al portiere. Era un tentativo apprezzabile. Non ha trovato l'uomo però. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. De Paul. Prova a inveccare lo scatto sul fondo. De lì. Del. Occasione per il contropiede. Errore qui. Pallone sprecato. Palla riconquistata immediatamente. C'è il grosso. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Ottimo intervento della difesa. Primo corner della partita. Immergiamoci in area di rigore. È esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ormai non hanno altra scelta. Devono solo attaccarlo. Sono d'accordo con te. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Cercano la ripartenza rapida. Può essere veramente pericolosa. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Lancia il compagno in profondità. Opportunità di ripartire. Musiala. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Pallone interessante, in verticale. Morata si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Gnabry. Gnabry. Pallone fuori davvero di pochissimo. Gran peccato. Gnabry ha un grande senso del gol. Ha visto un'opportunità e ci ha provato senza esitazione. Gnabry. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Grazie a tutti. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. In una gara così combattuta basta poco rompere gli equilibri. Anche un cambio al momento giusto. Morata da brutto intervento, fuori tempo, calci di punizione. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile. Arriva anche la sanzione. Cartelino giallo per lui. Cambio effettuato. Ora al mister rimane solo un'altra chance per mandare in campo forze fresche. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. C'è spazio per ripartire. Possono sfruttarlo. Blind. Palla a Goretzka. Ci prova con un pallone profondo. La gioca... Incornata! Eh, questo è un errore che potrebbe davvero costare caro. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio. Il suo sguardo dice tutto. Sì, 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 sì. L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Evidentemente era esausto. Una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. Jose Jiménez. Koke. Grandissima lettura. Riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Ballone interessante in verticale. Cercano un'azione veloce. Se ne va. Prova a darla profonda nello spazio. La difesa deve interpretare quest'azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo. Occhio al... Non si passa! Perfetta la parata. Non c'è che dire. Il portiere è rimasto lucido e reggito bene. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 L'allenatore decide di sfruttare l'ultimo cambio a sua disposizione. Calcio d'angolo battuto conto. Pericolo sventato. Adesso possono ripartire in velocità. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Cerca passaggio ma non trova la precisione. Palla filtrante per Griezmann. Bella apertura. Colpisce! Il pallone dentro! Era solo questione di tempo. Primo gol per lui con i nuovi colori. Il movimento è stato perfetto. Si è fatto trovare pronto e ha segnato. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Dopo 90 minuti!